Oltre 200 gli architetti presenti al convegno organizzato da Action Group Editor, il workshop di info, progetto dedicato alle sfide dell'edilizia del futuro, riqualificazioni, tecnologie, innovazioni, smart building, materiali e sostenibilità. Il 13 settembre 2016 ci troviamo ad Ancona, tantissimi progettisti intervenuti per un convegno pieno di interventi davvero molto interessanti. Il tema dell'economia circolare è un tema fondamentale, sarà fondamentale nei prossimi anni, l'impiego di materiali a valenza ambientale, sostenibili, riciclati e riciclabili e quindi il mondo dell'edilizia dovrà in qualche modo intervenire il prima possibile per cercare di tendere sempre più a scelte ambientalmente sostenibili. Sì, devo dire che siamo molto soddisfatti anche noi perché c'è un bel pubblico anche molto interessato. Ci permettono di entrare in contatto con un certo numero di professionisti, a volte sono le situazioni che preferiamo già in questo caso di essere coinvolti su un progetto che in questo momento il professionista sta seguendo e quindi magari possiamo proporre già una nostra possibilità, altrimenti chiaramente si viene a creare una relazione che poi viene coltivata dal personale che noi abbiamo sul territorio, quindi il nostro agente di zona o i nostri responsabili che poi porteranno all'evoluzione di un rapporto più strutturato, proporre vari prodotti a seconda dei progetti che si presenteranno. La risposta è stata importante per una piazza come Alcona, il centro Italia, sicuramente l'interesse che hanno dimostrato ai progettisti anche il nostro prodotto ma non soltanto, è stato veramente ottimo, ci hanno fatto molte richieste sia dal punto di vista tecnico che ovviamente dell'analisi e della ricerca di soluzioni ai loro progetti. I professionisti hanno risposto numerovoli e li ho visti molto attenti a quello che propone questo convegno, quindi posso affermare solamente molto positivo, le impressioni è veramente un convegno riuscito, soprattutto perché vedo gente interessata, quindi molta molta affluenza. La giornata è molto buona, comunque la sala era veramente piena, anche interessati durante almeno il mio intervento, sono passati anche al desk a chiedere, a informarsi, quindi sicuramente è una buona giornata, ci permette di portare acqua bleda al massimo numero di persone. La pratica mi è sembrata molto interessata e attenta a quelle che sono le tematiche proposte, anche qui al desk sono venuti interessati a chiedere delle informazioni relative ai prodotti che abbiamo presentato e quindi posso ritenere veramente soddisfatto di questa giornata. Grazie a tutti i nostri pezzi. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti